Buonasera, tra poco siamo pronti, c'è il telegiornale, ci sono moltissime notizie, parleremo ancora delle manifestazioni dei Notav, ovvero di coloro che non vogliono l'alta velocità. Vedremo come è andata la giornata in Val di Susa, già ieri vi abbiamo raccontato le varie mobilitazioni che ci sono state in diverse città, a Roma, a Milano, nella stessa Val di Susa. Oggi è una giornata sicuramente più tranquilla di ieri, le proteste pacifiche continuano, anche se dobbiamo dirvi che i nostri inviati ci hanno comunicato poco fa che un attivista, un pacifista, si sarebbe arrampicato sullo stesso traliccio dove si era arrampicato Luca Obama, ma diciamo subito che è stata immediatamente staccata la corrente e quindi non corre in quel senso alcun pericolo di vita e in queste ore si sta cercando di convincerlo a scendere da quel traliccio. Questa naturalmente è la situazione che ancora oggi vi raccontiamo, quelli che non vogliono l'alta velocità, ma ci sono anche quelli, e non si sono sentiti in questi giorni, che non solo vogliono l'alta velocità, ma che iniziano a essere anche stanchi di tutte queste proteste che dicono stanno danneggiando la valle anche dal punto di vista economico. E quindi stasera ascolteremo anche la loro voce, poi c'è la voce del governo che già avevamo sentito, ma che continua a mantenere la linea del si fa, si deve fare, è un'opera che deve continuare, deve essere fatta e naturalmente, è stato già detto, è stato ribadito, anche oggi non verranno consentite o tollerate delle violenze. Non solo chi fa atti di violenza nei cortei sono persone, ha detto oggi il commissario, che sono state di fatto invitate, quindi non infiltrati. Dunque questa è la situazione per quanto riguarda la Notav. Poi però ci sono moltissime altre notizie, ci sono notizie di cronaca, una in particolare davvero tremenda è accaduta a Brescia, dove un uomo impazzito, dicono, si dice per gelosia, ha ucciso la sua ex moglie e altre tre persone, e tra queste persone c'era anche la figlia ventenne di questa donna e il suo fidanzato. Una storia di cronaca davvero molto molto brutta. Il giallo di Rossella Urru, la cooperante italiana rapita quattro mesi fa in Algeria, purtroppo resta fino a questo momento ancora un giallo. Sapete che ieri Al Jazeera aveva diffuso la notizia della sua liberazione, ma è una notizia che non ha trovato conferme e a tutt'oggi non ci sono conferme, quindi è una notizia che non possiamo darvi. Naturalmente, come potete immaginare, sono ore di attesa e di speranza per tutti coloro che aspettano invece il lieto fine a cominciare dai familiari. Poi oggi è stato il giorno dell'ultimo saluto a Lucio Dalla nella sua Bologna, nella sua piazza grande, ovvero in piazza maggiore, una piazza gremita di persone, 50.000 tra l'interno della chiesa e l'esterno, tantissimi volti noti, personaggi del mondo dello spettacolo, suoi amici e colleghi, ma tante persone comuni a rendere l'ultimo saluto a Lucio Dalla. Queste sono solo alcune delle notizie, mentre tra l'altro in questo momento arrivano anche le notizie dalla Russia, perché sapete che ci sono le elezioni presidenziali. Si è votato, c'è stata una vittoria di Putin al primo turno e tra l'altro Putin sta parlando proprio in questo momento. La situazione naturalmente viene contestata da quelli che parlano di brogli. L'opposizione tra l'altro ha annunciato che già questa sera, più tardi, scenderà in piazza. Ma c'è Putin che per l'appunto poco fa ha detto «Ho vinto una lotta aperta e onesta, ho promesso di vincere e noi abbiamo vinto in una lotta aperta e onesta». Così un Putin raggiante che era stato già dato per vincitore alle presidenziali ha commentato adesso subito a botta calda questi risultati. Adesso vediamo i titoli. Il governo fa quadrato attorno all'alta velocità. Andiamo per la nostra strada, dice il sottosegretario Catricalà, escludendo qualsiasi ripensamento. No al referendum, ma sì a una migliore comunicazione sulle grandi opere, sullo stile del modello francese che punta alla democrazia partecipativa. Per i NoTav un'altra giornata di mobilitazione, mentre monta la rabbia al contrario di chi dice sì alla galleria. Qualche decina di chilometri oltre Bussoleno c'è Bardonecchia, località sciistica, con il 60% e meno di presenze sugli impianti e il 30% e meno di prenotazioni alberghiere. Qui i sì, i Tav sono pronti a manifestare. Una strage a Brescia. Un uomo nella notte uccide la ex moglie e il suo amico, la figlia di lei, il fidanzato, poi fugge ma viene bloccato e disarmato da un carabiniere fuori servizio. All'origine della tragedia è una questione di gelosia. L'omicida è risultato positivo al narcotest. Ancora un giallo. È ancora giallo attorno a Rossella Urro, rapita quattro mesi fa in Algeria e ieri data per libera. Ma la farnesina non conferma. In realtà non ci sarebbe stato nessuno scambio di prigionieri. Forse i sequestratori vicini ad Al-Qaeda aspettano il pagamento di un mazzi riscatto. In Russia Putin, presidente al primo turno, in migliaia il Cremlino per festeggiarlo con gli exit poll che lo danno al 61%. Oramai avete sentito anche prima, è certa, la vittoria con il concorrente più agguerrito, il comunista Zuganov che ha già denunciato Broglie. In 50.000, Piazza Maggiore, per l'ultimo saluto a Lucia Dalla con le esequie nella chiesa di San Petronio, una fila interminabile di persone e tanti volti famosi, da Morandi a Giovanotti, da Baggio a Renato Zero. Il momento più toccante è stato il ricordo di Marco, compagno di vita e di lavoro. Buonasera di nuovo. Allora, si va avanti con la TAV. Il governo lo aveva già detto, lo ha ribadito anche oggi con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Catricala, che di fatto ha ribadito la linea già espressa dal Premier Monti e si guarda adesso al modello francese. Errori, sì, in passato, ma ora avanti con i lavori per quest'opera prioritaria per lo sviluppo della nostra economia. No a qualsiasi cosa che assomiglia a un referendum, sì a una migliore comunicazione e per il futuro più dialogo con le comunità locali. Approfittando della maggiore calma domenicale, il governo sembra far quadrato sulla questione TAV, facendo contemporaneamente il punto della situazione, e lo fa in parallelo attraverso due interviste, una del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricala, l'altra del commissario straordinario per la TAV, Mario Virano, in sintonia con quella linea di ricerca della credibilità europea e dialogante fermezza con le parti in causa tipica dell'attuale governo. Se uno si siede al tavolo... Virano, per esempio, prima riconosce un'eccessiva rigidità nell'aver proposto un progetto magari già esecutivo, ma poi osserva... Non siamo in presenza di infiltrati, se non marginalmente, siamo in presenza di invitati. Invitati, lo dici. E il comitato che dirige il movimento regola il rubinetto della violenza secondo una lucida convenienza valutata occasionalmente di caso in caso. Un'affermazione che si attira subito le reazioni dei no TAV che ora minacciano quei rally. In un progetto per giunta è stato sottolineato, completamente riconsiderato, che non prevede più di passare per il Monte Musinè, ovvero per la massima concentrazione di rocce amiantifere. E siamo già entrati in pieno dibattito su come affrontare in futuro situazioni di questo tipo, prendendo magari a modello metodi seguiti in altri paesi. Già, perché quello italiano, ammesso che ne esista uno, finora non sembra aver funzionato. Di là dal tunnel in Francia sono previste, per esempio, consultazioni di sei mesi. E dunque andiamo a vedere la giornata di oggi in Val di Susa, perché le proteste continuano. Ci sono mobilitazioni e atti o blitz come è accaduto oggi. Ogni giorno si è tagliato il filo spinato che delimitava la strada dal cantiere dell'alta velocità all'inviato. Polentata e gita verso il cantiere dell'alta velocità. E questo il programma della domenica di protesta notava una giornata che chiude una settimana d'alta, tensione in Val di Susa, caratterizzata da blocchi dell'A32 e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Dopo la chiusura ieri del casello di Avigliana, oggi a Giaglione giornata di festa. Si comincia verso ora di pranzo al campo, sportivo sul fuoco e ci sono paioli colmi di polenta. La gente, numerosa, fa la fila per prenderne un piatto. Quando verso le 14.30 Perino, il leader del movimento del No alla Torino-Lione, prende la parola e invita tutti a inerpicarsi per i sentieri di montagna per andare verso la baita clarea lo storico presidio Notav, ora inglobato nel cantiere. A seguirlo sono centinaia. Bastano pochi minuti però per arrivare al blocco delle forze dell'ordine. Il corteo si ferma qualcuno, taglia il filo spinato. Il fronte più radicale sale tra gli alberi e arriva pochissimo dalle forze dell'ordine. Partono i belati di scherno contro gli agenti, ormai uno dei tratti distintivi di questo movimento. Perino invita tutti a tornare al campo. Non ci sarà nessun tentativo di buttare giù il jersey. Il blocco di cemento costruisce il passaggio al cantiere, dice. Gli uomini appostati tra gli alberi non sembrano sentirlo. Rimangono lì cantando e guardando poliziotti e carabinieri. Passerà più di un'ora prima che tutti decidano che è il momento di riprendere la via di casa. Torneremo al blocco e non ci fermeremo qui, fanno sapere, prima di percorrere la strada che riporta a Giaglione. Avessimo voluto, sfondavamo, andavamo giù. Non l'abbiamo fatto perché non ci interessava. Il giorno che vorremmo riprenderlo, noi quel posto lì lo riprendiamo. Questo è poco ma sicuro. Domani a Bussoleno nuova assemblea. Lì si decideranno i prossimi passi di un movimento determinato a continuare nella lotta. Ancora più agguerrito dopo la decisione del governo Monti di proseguire con la costruzione del TAV Torino Leone è deciso a fermare ogni violenza. Come vi dicevo nella nostra anteprima e come ci avevano preannunciato i nostri inviati un pacifista che simpatizza con il no TAV Turi Vaccaro, in realtà è un attivista di lungo corso, si è arrampicato in Val di Susa sullo stesso traliccio dell'alta tensione da cui è caduto lunedì scorso Luca Abba a Chiomont, appunto in Valle di Susa. Però come vi ho preannunciato immediatamente è stata staccata la corrente e quindi da quel punto di vista non ci sono pericoli. Adesso l'uomo comunque è ancora sul traliccio e si sta cercando di convincerlo a scendere. Queste le ragioni di coloro che non vogliono l'alta velocità ma ci sono anche coloro che invece la vogliono l'alta velocità e sono quelli che forse probabilmente si sono sentiti molto molto meno in questi giorni e che iniziano anche a protestare, sì, ma contro i no TAV che dicono adesso ci creano dei danni anche economici. C'è un'altra rabbia che monta in Val di Susa, una rabbia al contrario, quella di chi il treno ad alta velocità lo vuole anche se non passerà sul suo territorio e soprattutto non vuole i disagi creati nell'ultima settimana dai blocchi e dalle proteste. Andiamo in Alta Valle, 30 km più su di Bussoleno, Bardonecchia è una nota località sciistica vicino a Torino e alla Francia, il suo sindaco in prima linea contro quelli che dicono no. Martedì insieme ai colleghi di 10 paesi incontrerà il presidente della regione Cota. Ci sentiamo ostaggio di questa protesta perché al di là della posizione si TAV, no TAV noi siamo ostaggio dei blocchi stradali, quindi non si sa se si può andare a casa, i turisti sono preoccupati. Noi continuiamo a dimezzare gli incassi in tutti i weekend utili, noi qua viviamo di turismo. Una settimana con il 60% in meno degli sciatori sugli impianti, il 30% in meno di prenotazioni negli alberghi. Sul piazzale di questo hotel stazionano le camionette degli agenti in servizio al cantiere, gli ospiti più frequenti da un po' di tempo in valle. I turisti che devono venire, che so io, da Roma, da Bologna, da Genova, da lontano, in questa incertezza non vengono. Ci sarà sempre questo timore, questa valle che è precaria, no? L'idea è quella di una class action contro i danni dei blocchi. In programma c'è una manifestazione ancora da organizzare. Non è chiaro dove, perché fare un corteo sitave in valle è un grande rischio. Lo sa il sindaco di Chiomonte, sede del cantiere della Maddalena, Renzo Pinard, intrincea per le sue idee che non piacciono ai manifestanti. Questa estate si è pagata una scorta e ogni mattina accompagna il figlio sedicenne a scuola per evitargli problemi. Io sono più per una marcia del buonsenso, più una marcia della legalità. Poi è chiaro che bisogna poi valutare il dove farla. Farla oggi in Val di Susa non credo che sia il posto ideale. Io non me la sento al di là di tutto di dire che l'opera non serve a niente. Ma perché? Perché l'organo superiore che è lo Stato mi ha detto che serve. Ancora la cronaca ci racconta oggi una storia davvero della follia. A Brescia un uomo ha ucciso la sua ex moglie e altre tre persone, tra queste la figlia ventenne di lei. Non è irriguardoso chiamare la strage di Brescia, nome che evoca una pagina terribile della nostra storia. Quanto è successo questa notte qui in via Raffaello? Perché quattro persone di queste due giovanissimi sono morte ammazzate, indifese di fronte alla determinazione omicida di un uomo di 34 anni, Mario Albanese, camionista senza pace dopo la separazione due anni fa dalla moglie. Una beretta 7,65 procurata da tempo e qualche grammo di hashish in tasca, un tiro di cocaina come rilevato dall'esame del capello. Atteso per ore che Francesca Leruzzo, maestra elementare di 45 anni, tornasse a casa e quando la donna alle tre di notte è scesa dalla macchina in compagnia di Vito Macadino, 56 anni, l'ex marito ha messo in atto la prima parte del suo piano e li ha colpiti. Poi è salito in casa, ha risparmiato le tre bambine di 11,75 anni avute da Francesca e si è accanito contro la prima figlia dell'ex moglie, Chiara, 19 anni, arrivata a Brescia dalla Calabria per trovare la madre insieme al fidanzato Domenico, suo coetaneo, anche lui vittima senza una ragione. È ridisceso in strada e con freddezza ha sparato di nuovo contro l'ex moglie e l'amico, poi è arrivato Ivano Gatti, appuntato dai carabinieri e suo vicino di casa. Ha togliato Mario, mi ammazzo, mi ammazzo, ma cosa ti ammazzo? Vieni qua Mario, dicevo. Si è puntato la pistola alla testa così e gli si è incepata. Nessuna denuncia per stalking, nessuna minaccia aperta verso quella donna con la quale voleva tornare a vivere, riallacciare le fila di una famiglia e di una vita. Mario Albanese voleva ammazzarsi alla fine di quella mattanza, non è riuscito ed è l'unico rammarico manifestato in questura, nelle prime parole scambiate con gli uomini della squadra mobile di Brescia. Le sue tre figlie sono state affidate a parenti, lui era sorvegliato a vista in carcere. Allora, purtroppo non possiamo darvi ancora la notizia che avremmo già voluto darvi ieri sera, ovvero quella della liberazione della volontaria italiana Rossella Urru, rapita quattro mesi fa in Algeria. La notizia è stata diffusa, lo sapete, oramai ieri in mattinata dalla televisione araba alla Jazeera, però di fatto poi nel corso della giornata, nonostante altre fonti dicessero che era libera, non c'è stata conferma, soprattutto non c'è stata conferma da parte della Farnesina. E queste sono ore di speranza e di trepidazione per tutti, soprattutto per i suoi familiari. Eccola qui la fonte che ha trasformato il caso Urru in un giallo internazionale, alternando speranze e delusione nel giro di sole 24 ore. E' questo infatti il sito di Sahara Media, che ieri ha dato la notizia, poi ripresa dal Jazeera, dell'imminente rilascio della cooperante italiana. Ed è sempre questo sito che oggi, invece, smentisce, tramite una sua fonte, la notizia dello scambio di prigionieri tra la Urru e il terrorista maliano Abdel Rahman Madu, dunque la liberazione della cooperante, anche se aggiunge che le trattative con i rapitori sono ancora in corso. Insomma, il mistero sulla liberazione di Rossella Urru, rapita lo scorso ottobre da un gruppo di estremisti islamici in Algeria, resta ancora profondo, così come profonda è la pressione dei parenti e degli amici della donna. I genitori di Rossella sono distrutti, ha detto il parroco della città natale di Rossella, Samugheo, Don Alessandro Floris. La farnesina continua a non confermare la liberazione della giovane e loro non sanno più cosa pensare. Il silenzio del Ministero degli Esteri è l'unica altra certezza di questa storia, anche se altre fonti, vicine alla mediazione, riprese dai giornali arabi, ieri hanno parlato di un riscato di 30 milioni di euro, chiesto dal Movimento Unito per la Jihad, per il rilascio di Rossella Urru e degli altri due ostaggi spagnoli, e dunque il silenzio della farnesina potrebbe essere un riservo voluto, tecnico. Ma anche su questo non c'è alcuna conferma. Quel che si sa è che sia l'inviato speciale del Ministero degli Esteri italiano per l'emergenza umanitaria, Margherita Boniver, che il Ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel García Margaio, si sono recati in Mali nelle ultime ore e le autorità del Mali hanno assicurato al governo di Madrid che i due cooperanti spagnoli stanno bene. Adesso andiamo in Russia perché c'è stato il voto e c'è stata la vittoria di Putin al primo turno. Un Putin che trionfante sta in questi minuti parlando e ha detto già abbiamo vinto in elezioni oneste. Sono già in piazza i sostenitori di Vladimir Putin, tutti a festeggiare, anche se i risultati delle presidenziali non sono ancora ufficiali. Ma poco importa, nessuno può avere dubbi. Da stasera il nuovo presidente della Russia sarà il primo ministro uscente e già ex presidente per due mandati, padre padrone del paese. Dai primi exit poll, zar Vladimir è accreditato di oltre il 60% delle preferenze e comunque non esiste una previsione che non dia Putin vincente con una forbice che vada oltre il 55% ad oltre il 65%. Una specie di plebiscito che eviterà la fastidiosa seccatura del ballottaggio, non che ci fossero avversari in grado di impensierirlo. Tra gli sfidanti, gli avversari di sempre, il comunista Zhuganov, l'ultranazionalista Zirinovsky ed un paio di moderati, tra i quali il magnate Prokhorov che sembra aver avuto il compito dallo stesso Putin di fare la foglia di fico, non rendere palese quello che è ovvio, che il re è nudo. La sua corsa è servita a simulare una vera elezione democratica dopo che la commissione elettorale aveva falcidiato i leader dell'opposizione bocciando ogni candidatura. Putin sarà di nuovo il presidente grazie alla riforma costituzionale da lui voluta, non più per quattro anni ma per sei. Guiderà una superpotenza in rapida ripresa in un mondo in crisi. In Russia, la classe media negli ultimi anni è raddoppiata. Mosca ha in mano le chiavi di una fetta vitale della produzione di energia mondiale, soprattutto per l'Europa ed ha deciso di riarmarsi all'opposizione. Proprio quella classe media cresciuta in questi anni che si sente legata all'Occidente e che chiede una vera democratizzazione del paese, non rimane che la piazza, non rimane che protestare per non aver avuto diritto a presentare un vero contendente e per una battaglia di retroguardia sui brogli anche in queste elezioni già denunciate dagli osservatori internazionali che Putin comunque nega o vinto una lotta aperta e onesta e detto i suoi sostenitori in piazza. E ci sono altre elezioni di ben altre dimensioni, non sono neanche elezioni politiche, sono le primarie che si svolgono oggi fino alle 21 a Palermo che vedono in campo quattro candidati per il Partito Democratico. ovviamente diversamente si sono presentati con appunto delle liste che li sostengono ma di fatto rappresentano quella fotografia di vasto già così identificata che vede una probabile o futuribile alleanza tra il Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà e l'Italia dei Valori. E vedremo come andrà questo test. Democrazia significa scegliere, nel 2013 non ci sarà nessuna grande coalizione. Pierluigi Bersani torna ad allontanare dall'orizzonte democratico la prospettiva di una larga maggioranza modello Monti anche per le prossime elezioni. In un'intervista all'Unità il leader PD spiega che quello che oggi il partito sostiene con convinzione è un passaggio di transizione e di emergenza. Dopo vogliamo costruire una democrazia riformata ma normale dove il confronto politico possa esserci, i cittadini possano scegliere e la politica abbia il suo ruolo, dice Bersani. Che mette in guardia sulle manifestazioni anti-TAV? Si stanno accendendo fuochi pericolosi, il Parlamento deve discutere e va pronunciata una parola chiara. Il PD condivide in pieno la linea scelta dall'esecutivo di andare avanti con i lavori segnando così un nuovo punto di distanza con le altre forze della sinistra, Di Pietro e Vendola. Con SEL e IDV invece, Bersani sostiene a Palermo Rita Borsellino come candidato sindaco nelle primarie del centro-sinistra in corso da questa mattina. Ma nel capoluogo siciliano si sta svolgendo un'altra partita insidiosa per il segretario. Stavolta, visto che il candidato è comune, non c'è il rischio di una nuova Genova. Il mese scorso tra gli sfidanti del PD vinse il terzo incomodo targato SEL. Ma a sfidare la Borsellino, che parte come grande favorita, c'è Fabrizio Ferrandelli, ex di Pietrista sconfessato dall'IDV che rappresenta la via siciliana alla grande coalizione e cioè la parte del PD che in regione è nella maggioranza che assieme al terzo polo sostiene il governatore Lombardo. Il PD è infatti spaccato con il segretario regionale Lupo schierato con la Borsellino così come i vertici nazionali mentre con Ferrandelli ci sono big siciliani del partito come Giuseppe Lumia. In corsa ci sono anche Davide Faraone, l'unico candidato con in tasca la testa del PD, sponsorizzato dal sindaco di Firenze Matteo Renzi e Antonella Monastra, candidatura al di fuori dei partiti. I diatti parlano di grande affluenza e non mancano le polemiche su presunti infiltrati ai seggi che chiuderanno alle 21. Poi nella notte i risultati. I rumors dalla Sicilia parlano di un possibile esito al fotofinish tra Rita Borsellino e l'outsider Ferrandelli. Si è parlato molto nei giorni scorsi delle liberalizzazioni naturalmente con il decreto e anche di alcune norme in particolare delle liberalizzazioni, quelle che riguardano le banche o meglio le commissioni che riguardano le banche che sono state abolite. Per quella norma si è dimesso il presidente dell'ABI, l'associazione delle banche che oggi però è tornato a parlare e a rivendicare gli interessi delle banche. Ha detto che è il nostro diritto, dovere fare profitti. Da qualche giorno il volto di Giuseppe Mussari è diventato più familiare. I banchieri fanno in genere il possibile perché non si parli di loro, è un vecchio detto dell'ambiente, ma di Mussari si è detto molto perché si è dimesso dalla presidenza dell'ABI, cioè l'associazione italiana delle banche, per protesta contro le liberalizzazioni che anziché i taxi alla fine hanno puntato il settore del credito. Oggi in un'intervista al Corriere della Sera, Mussari, sei anni al vertice, ora in movimento del Monte dei Paschi, riprende posizione. Non siamo un servizio pubblico, le banche devono guadagnare, sono imprese, dice. Ci sta, anche se la quintessenza dell'impresa è il rischio che adesso scansano. Monti in borsa aveva detto che non c'era deferenza, poi la mossa sciocca, la sberla alle banche, vagamente populista. Mai prima. Tremonti per averci provato dovette dimettersi e così adesso qualcuno vuole ripensarci. Quel PD che ha promosso l'emendamento, ma anche il governo che cercherà un più giusto equilibrio nella norma, sfruttando in corsa magari un altro decreto, quello sulle semplificazioni o quello sul fisco. E guai a citare i poteri forti, il segno è stato dato. Spiegare però perché le banche abbiano avuto miliardi a tasso agevolato dalla Banca Centrale Europea, mentre imprese e famiglie bussano agli istituti spesso senza risposta, la stretta del credito questa è, non è semplice. Si può tentare con i numeri. Le banche hanno preso denari, 250 miliardi circa in due aste, per loro stessa ammissione, ecco qui, per quasi la metà, il 46%, li hanno destinati all'acquisto di titoli di Stato. Lo spread ringrazia, ma soltanto l'8-10% finirà alle imprese. È un'operazione che tecnicamente si chiama carry trade, cioè mi indebito a basso costo per finanziare acquisti a tasso vantaggioso. Concretamente dalla BCE, prendo all'1%, compro BTP con cedola al 5% e incasso la differenza, il 4% netto. Quanti soldi sono? Il netto sul BTP può valere in tutto, conto, terra terra, 5 miliardi. Ma a questo punto bisogna domandarsi quante perdite potrebbero soffrire le banche per colpa della strizzata di monti alle commissioni sui prestiti. Sia chiaro che gli interessi restano in ogni caso. L'esempio è sul massimo scoperto, che in media uscilla tra lo 0,125% e lo 0,25%. Considerando che la massa degli affidamenti si aggira sui 2.000 miliardi, la perdita solo per questa voce potrebbe essere massimo di 5 miliardi. Se prestassero alle imprese guadagnerebbero di più, almeno il 6%, ma le banche non vogliono farlo. Troppo rischio, quintessenza di impresa dimenticata. E oggi Bologna ha dato l'ultimo saluto a Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno, nella sua piazza grande, che naturalmente è piazza maggiore, ma la canzone famosa di Lucio Dalla, quella piazza era ispirata ed erano davvero in tantissimi, in oltre 50.000 persone. Il funerale nel giorno del suo compleanno, il 69esimo, poteva concepirlo solo lui, che di scherzi amava farne tanti a tutti. E sembra davvero il guizzo di un clown, un copione alla Monty Python, il suo atto finale. Gli amici del cuore, tutta una città riunita non intorno ad una torta, ma alla sua bara. Solo che non si ride, ma si piange parecchio. Buon compleanno, Lucio. Come vedi, non è come quando... Ci ha pensato Don Bernardo Boschi, padre domenicano, suo amico da 40 anni, a ricordare nell'omelia di una messa fin troppo tradizionale che cosa è stato per Bologna e l'Italia, Lucio Dalla. Tu hai amato tutti, forse non amavi le grandi manifestazioni, però questo popolo ti capisce dalle autorità ovviamente fino agli ultimi, quelli che tu hai amato. Bologna ha perso un figlio vero. Piazza Maggiore, la piazza di una delle sue celebri canzoni strabocca di gente ed è piena zeppa anche la Basilica di San Petronio, dentro si sfiorano le 6.000 persone. Nei primi banchi lo staff di Dalla, quello che ormai è per tutti la sua famiglia allargata, poi nelle altre file un lungo elenco di colleghi, cantanti, discografici, manager. La messa è celebrata dal provicario Gabriele Cavina, numero 3 della curia bolognese, che ha dettato rigide regole per le esequie. Niente canzoni, niente show, solo il magnifico coro di San Domenico per le musiche sacre di rito. Dalla era credente, negli ultimi anni aveva messo alle spalle le trasgressioni per lasciare molto spazio alla spiritualità. Le letture sono state affidate ad altri amici dell'artista bolognese, mentre un padre francescano ha ricordato come Dalla amasse circondarsi di bellezza e di musica. Alla fine della messa, sull'altare, il momento più toccante, quando è salito Marco Alemano, il 32enne attore pugliese, che da tempo condivideva con Dalla vita e lavoro. Ha letto il testo di una canzone del 1990, Le Rondini, e poi, davanti alla curia schierata, con grande coraggio, ha aggiunto un ricordo fuori programma. Solo che oggi, a differenza di allora, conosco benissimo quel signore che canta Le Rondini. Oggi posso spiegargli che cosa mi ha dato e continuo a darmi. Oggi, insieme a voi, posso dirgli grazie. Dalla è stato sepolto accanto alla Madre Iole, al cimitero della Certosa, dietro lo stadio. Ciao Lucio, prossima fermata è il cielo. Ci fermiamo per la pubblicità. Non ci sono altri aggiornamenti, allora possiamo dare subito la linea in onda. Luca Telese e Nicola Porro, ospite in studio, Fausto Bertinotti. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS